Tutto questo al 26 del primo tempo, ancora un calcio d'angolo per l'Akragas, vicino al vantaggio, Scanduro dalla bandierina, pallone in aria, lontana la difesa della Gioiese, poi Mannino la conclusione, Ammirati ancora lui, salva la Gioiese. E poi sarà rimessa laterale per l'Akragas, terza palla-gol per la squadra di Marco Coppa. Palla che arriva in aria, attenzione, Litteri con la testa, rincorre il pallone Pantano, la palla è lì, attenzione, ha segnato l'Akragas! Ha segnato Alfredo Trombino, 1-0 per il Bianco Azzurri, lo sblocca lui, Trombino, che poi dedica il gol ai tifosi dell'Akragas che fanno festa, eccoli qui! Akragas avanti, con Alfredo Trombino, al 27 del primo tempo, assist al bacio di Giordano Pantano, ed è 1-0 per l'Akragas, è un vantaggio stra-meritato! Fanno festa i tifosi dell'Akragas presenti a palmi, era nell'aria il gol, è arrivato puntuale, al 27esimo, con la zampata di Alfredo Trombino! Gioiese a 0, Akragas 1! Perder il pallone di Mauro, benessere laterale per la Gioiese! Gioiese a 0, Akragas 1! 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 Gioiese a 0, Akragas 1!